MSI ha da poco presentato sul mercato il NetOn AP1900, un all-in-one basato su processori Intel Atom N230. Dotato di display da 18,4 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel, offre inoltre un'unità ottica DVD integrata. Il display è inserito in una cornice di colore nero con finitura lucida, soluzione utilizzata anche per la realizzazione della base. L'ingombro totale del NetOn AP1900 è minimo e questo dettaglio amplia i possibili scenari di impieghi o del prodotto. Questo all-in-one è destinato a un utilizzo small office, ma la dotazione hardware lo rende adatto anche ad altri impieghi di tipo generico. Come altre soluzioni presenti sul mercato, la configurazione hardware è in grado di offrire prestazioni non di eccellenza. L'accoppiata Intel Atom N230 con chipset Intel 945 GSE non ha certo bisogno di presentazioni. Per questo prodotto, MSI ha scelto di integrare un hard disk da 160 GB e un quantitativo di 1 GB di memoria RAM. Per il collegamento di periferiche aggiuntive sono disponibili due port USB 2.0. Il sistema operativo scelto è Microsoft Windows XP. Tra gli elementi a favore di questo NetOn AP1900 segnaliamo il display di tipo tradizionale, quindi non glare, da 18,4 pollici e la presenza di un'unità ottica integrata. Rispetto ai modelli concorrenti, il NetOn AP1900 non dispone di tecnologia touch, anche se nei prossimi mesi potrebbero esserci delle novità. Il prezzo del prodotto è fissato a 499 euro.